Bentornati sul canale di Lorenzo Ciac, come vi avevo promesso su Instagram andiamo a parlare di Like Tear, la vera storia di Buzz. Alla regia troviamo Angus McLean che lavora alla Pixar da 25 anni. Pensate che la prima cosa che fece Angus alla Pixar fu aiutare il team che stava lavorando sulla creazione del cattivo di Toy Story 2, ovvero la cerrimo nemico di Buzz, ovvero Zurg, che tra l'altro ritroviamo qui in questo film, ovviamente, con colpi di scena fotonici tra l'altro. Innanzitutto c'è da dire che Like Tear rimarrà nella storia del cinema come il primo film Disney Pixar in cui si vede una coppia omosessuale dichiarata e di cui la narrazione è fondamentale per la trama. Questo elemento crea volenti o nolenti, che voi siete d'accordo o no, crea un precedente, facendo diventare Like Tear una pietra miliare del cinema. Non per una tecnologia per le riprese, non per un montaggio o una fotografia strepitosa, ma per una narrazione inclusiva all'interno di un prodotto Disney. Cosa che ci mancava in questo modo così dichiarato. Ora, dovremo aspettare un po', ma il prossimo passo è un protagonista dichiaratamente omosessuale, per forza, per forza. Però c'è un però. C'è da dire che la scelta non fu subito appoggiata dalla direzione Disney. Infatti, all'inizio, quest'ultima, non aveva preso una posizione, diciamo, una posizione chiara di fronte all'allora proposta di legge dello Stato della Florida, che oggi è legge, che adesso è passata ed è legge. Ai tempi, quando dovevano ancora scrivere la sceneggiatura e decidere come montare in tutto il corso della creazione di Like Tear, diciamo, era ancora una proposta di legge, che l'avrete già anche sentita nominare, è la Don't Say Gay, ovvero quella legge che prevede di non parlare ai bambini al di sotto della terza elementare di argomenti che includano l'identità di genere. E quindi capite bene che la Disney non era proprio contenta di mettere una coppia saffica in Like Tear. Cioè, finché si tratta di mettere padri che vengono uccisi male dai fratelli, sì, va bene. Anziani che inretiscono i sensi di minorenni, pure, va benissimo. Ma quando si parla di una coppia di omosessuali che si amano e che hanno una prole, allora lì tutto si ferma e diventa tutto più un casino. Se non fosse che tutto è cambiato nel momento in cui la Pixar ha scritto una lettera incazzosissima, ma incazzosissima, firmata da tutti i dipendenti, diretta direttamente alla direzione del topo, in cui, senza tanti giri di parole, accusavano la Disney di omofobia. A quel punto la direzione non ha potuto far altro che consentire alla folle scelta di due donne che si vogliono bene e vogliono passare la vita insieme. Cioè, pazzia. Proprio la pazzia, ok? Cioè, belli i tempi in cui c'era Jafar, belli i tempi in cui c'era Scar. Adesso che invece le persone le mettiamo perché si amano, allora va tutto bene. Vabbè, ma è follia. Si sa, è follia. È follia. Ma tralasciando la follia di queste scene di donne che si amano e si vogliono bene e si proteggono l'una con l'altra, il film parla di viaggi nel tempo, di abnegazione di se stessi, di egocentrismo, di egoismo. Vi giuro, ragazzi, che il viaggio dell'eroe che percorre Buzz è molto, molto complesso. Lui all'inizio del film è un disastro dal punto di vista emotivo e il tragitto che si trova a fare è molto lungo, è molto doloroso per lui e per noi. Perché lui subito non se ne accorge neanche di quello che sta passando, di quello che si sta perdendo. Tu te ne accorgi ed è qualcosa di molto doloroso. Per me la prima parte, ragazzi, è veramente una figata. Ho sentito molti che si sono lamentati, che poi si va un po' a perdere. Secondo me, invece, ci sta tutto questo film. Dall'inizio alla fine, nella parte centrale, tutto. Nella parte centrale lui deve ritrovare un po' se stesso, deve capire chi è, da dove ne viene, perché comunque ci sono molte cose che cambiano repentinamente. Ed è un film che ci sta così com'è, secondo me. Altra nota positiva di questo film, di questa pellicola, è che sia dal punto di vista narrativo e che dal punto di vista tecnico si rifà un sacco a film Shifai, o Shifi, degli anni 70-80, ma anche degli anni 90-2000 comunque. Cioè, troviamo citazioni a Star Wars, ad Alien, a Interstellar, a Robocop, il 2, a Robocop 2, a The Black Hole, Star Trek. Cioè, c'è un sacco di roba. Sia chiaro, non è un mappazzone di roba messa lì a macerare. È una pellicola che ha un suo carattere, ha una sua identità, ma sa dove strizzare l'occhio ad altri film di fantascienza. Sa cosa prendere in prestito, ecco. E sa farlo con criterio, comunque sa farlo con criterio. Più ti portano a pensare agli altri film di fantascienza, rimanendo comunque all'interno di una narrativa, di una narrazione molto ben fatta. Ecco, e qua arriviamo al punto più importante, che è quello che tocca a voi. Perché? È un film che si merita che tutti vadano a posare le proprie natiche su una poltrona di una sala cinematografica, ok? È importante, secondo me, da come l'ho apprezzato io questo film, da quello che ho visto io, sarebbe molto bello se un film del genere facesse un minimo di botto al botteghino almeno il primo weekend. Il primo weekend, per me, che sto parlando, è domani. Oggi è venerdì, quindi... è venerdì 17, tra l'altro, ragazzi. Toccatevi un attimo il cornetto. Quindi, il weekend, se... Il weekend, sì, buonanotte. Il weekend 18-19. Se riuscite, ragazzi, io ve lo consiglio, non ve ne pentirete, tra l'altro hanno anche tolto le mascherine in sala. Prendete, per favore, e andatevi a vedere Like Tier, la vera storia di Buzz, al cinema, e facciamo fare il botto al botteghino. Tra l'altro, per chi piace, c'è anche in 3D. Io l'ho guardato in 2D perché a me il 3D fa venire male di testa. Ma, se qualcuno vuole, se qualcuno apprezza il 3D, c'è anche in 3D. Quindi, ragazzi, prendete, alzatevi, dopo aver finito il video, ok? Mettete mi piace, vi iscrivete se non siete iscritti, poi vi vestite, e andate a vedervi Like Tier al cinema. Mi raccomando, raga, perché, secondo me, è un film che si merita di essere visto al cinema, e si merita anche di fare un minimo di botto al botteghino. Quindi, per favore, non facciamolo andare così, no? Come gli altri film che sono usciti, che si meritavano un minimo di botto al botteghino, invece non hanno fatto niente, perché poi, intanto, la gente si recupera sulle piattaforme. No. Per favore. Per favore. Almeno qua, un segnale forte che questo film è un film che merita di essere visto al botteghino, qualcuno dovrebbe darlo. Quindi, per favore, andate al cinema. Invece, una delle poche cose che non mi sono piaciute, che non mi hanno convinto, in realtà, di questo film è il doppiaggio italiano di Buzz. Speravo in Marco Vivio, speravo in Marco Vivio, doppiatore di Chris Evans, che è la voce originale di Buzz, motivo in più per vedere il sogno originale, ok? Parte tutto. Andate al cinema a vederevelo in italiano, poi quando uscirà ce lo andiamo a vedere tutti in originale con la voce di Chris Evans. Tra l'altro, se me lo notate, non so se io ho un'immagine con lui con i capelli, eccolo qua, se lo guardate, se lo guardate bene, se lo guardate bene, è la versione caricaturale di Chris Evans. Dai, dai, è palese. Ok? Quindi, motivo in più per guardarselo in lingua originale. Non mi ha convinto tantissimo il doppiatore di cui adesso mi scappa anche il nome che hanno messo a doppiare Buzz. Speravo in Marco Vivio, Marco Vivio è il doppiatore, come vi dicevo anche prima, di Chris Evans quando faceva Cup, ok? Che forse è la voce più adatta per Chris Evans ed è la voce più adatta anche per Lightyear, siccome è una scoppiazzatura di Chris Evans. mi è dispiaciuto, è anche una cosa che però, a dire il vero, ti stona un po' all'inizio, subito, appena lo senti parlare all'inizio, ma poi, quando entri nel flusso degli eventi, non ci fai neanche più caso, cioè diventa la voce di Buzz, non ci fai neanche più caso. All'inizio a me mi ha fatto storcere il naso, però, devo essere sincero, devo essere sincero. Cos'altro dire? Allora, per il momento non abbiamo fatto spoiler, potrei farvi due o tre spoilerini adesso, ma poca roba, perché intanto è troppo presto per fare spoiler, l'avete visto in pochi, ma due o tre cose volevo dirvele, che possono essere considerate spoiler, quindi, se siete dei puristi e non volete assolutamente nessun spoiler, allora, chiudete qua, iscrivetevi, canale, vi abbraccio, vi do un bacio, condividete tutto quello che dovete fare, se invece ve la volete un po' rischiare, io due cosine ve le dico. Allora, vado, eh? Quindi, uno, due, tre, spoiler. Uno, mi è piaciuto l'inizio, che è qualcosa di meraviglioso, meraviglioso, quando compare la scritta che racconta che film è questo, ovvero, è il film che ha visto Andy da piccolo al cinema, da cui è stato tratto il giocattolo di Buzz Lightyear. Questa cosa qua mi ha fatto pensare a un'altra cosa. Quindi, in quel mondo lì, tecnicamente, il ruolo di Buzz Lightyear, tecnicamente, il ruolo di Buzz Lightyear come attore è interpretato da Chris Evans. Potrebbe tornare come cosa? siccome lo giochicchiano un po' sull'espressività, sulla mimica di Chris Evans, sulla faccia di Chris Evans. Potrebbe, no? Potrebbe tornare. Quindi, Andy ha visto un film con Chris Evans in cui Chris Evans fa Buzz Lightyear. Io me la sono vista così, mi piace anche un sacco. Altra cosa che mi è piaciuta tantissimo, ma questa qua, ragazzi, è proprio spoiler, proprio spoiler sul finale. Quindi, se non avete visto il film, chiudete, 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 chiudete adesso. Uno, due, tre, la vado a dire, spoiler pesantissimo, lo vado a dire, che all'interno di Zorg, alla fine si scopre che all'interno di Zorg, c'è un altro, Lightyear, che è completamente impazzito, perché lui ormai vive soltanto per cancellare i propri errori nel passato e non vive nulla del presente, non vive nulla del presente perché ormai è ancorato al pensiero che la sua vita è inutile perché ha sbagliato quella volta. È potentissimo, è potentissimo. Lui ormai è talmente egocentrico, è talmente egoista, non pensa più a nessuno, lo dice che lo fa per gli altri, ma lo fa soltanto per lui perché non vuole avere l'onta ad aver sbagliato quella volta. È qualcosa di potentissimo, potentissimo. È uno dei messaggi più belli che potevano dare, uno dei messaggi più belli che potevano dare. A parte tutta la tiritera dei credi in te stesso, puoi farcela, puoi fare quello che vuoi, ma il vero messaggio di Lightyear è non ti fissare sui tuoi errori, i tuoi errori vanno a creare quello che sei. Gli errori nella vita è giusto provare a rimediare ai propri errori, ma gli errori che fai nella vita diventano parte di te e tu su quegli errori puoi costruirci qualcosa ed è qualcosa di potentissimo, è potente, è potente. Questo film qua ha una narrazione, ha un messaggio che è potentissimo, che è qualcosa che pochi sanno raccontare e che pochi hanno raccontato così bene. perché pensate come vengono cresciuti i bambini oggi, anche ai nostri tempi comunque, ma anche prima, ma sempre nell'umanità, che non devi sbagliare. Tecnicamente l'errore viene punito, ok? Invece qua cosa ti viene raccontato? Ti viene raccontato che sull'errore l'errore è parte se sei umano, non sei un robot, ok? Come infatti viene descritto Zurg, come un robot freddo, ok? Senza vita, ok? Con solo la missione che gli viene imposta di eseguire. Ed è quello che è diventato il vecchio Lightyear. E invece Lightyear, il nostro protagonista, attraverso i tre personaggi, i tre amici, diciamo, i tre compagni, ovvero Izzy, la vecchietta di cui il nome non mi ricordo e l'uomo di cui il nome ovviamente non mi ricordo, attraverso di loro ha imparato che quell'errore principale, il primo errore che lui ha commesso, ovvero quello di non farsi aiutare e far schiantare la nave su questo pianeta, ha portato alla nascita di Izzy, ok? Mi sembra fosse Izzy. E questa cosa qua è grandiosa. Nel momento in cui lui si tornasse indietro a risolvere il problema, risolvere lo sbaglio che lui ha fatto, Izzy scomparirebbe. Tutta la vita del comandante, della sua amica comandante, di cui il nome non mi viene, Aisha, Aisha, tutta la vita di Aisha scomparirebbe, perché la vita di Aisha è stata quella proprio perché lui ha sbagliato. Ed è qualcosa di meraviglioso. A me mi ha riempito, mi ha riempito di gioia un messaggio del genere. Che è giusto provare a rimediare i propri errori. Ovviamente se sbagli devi provare a rimediare. però non devi assumerti anche le tue responsabilità nel senso che quegli errori che tu compi vanno a creare qualcosa dentro di te. Possono essere anche un insegnamento, possono essere anche l'inizio di qualcosa di buono. È bellissimo ragazzi, è bellissimo. Beh, a parte l'ultimo piume in piena di emozione che mi ha risuscitato pensare a questa cosa qua, vi invito di nuovo ad andare a vedere like tear al cinema, mi raccomando, facciamoci fare il botto al botteghino, mi raccomando. Io vi saluto, ora vado a guardarmi la quarta puntata di The Boy, di cui non vi sto parlando, ne parlerò alla fine probabilmente, forse, non so neanche se ne parlerò di The Boy. Però vi invito ad andare al cinema, vi invito a iscrivervi, vi invito a lasciare un mi piace, vi invito a lasciare un commento, ditemi se andate a vederla al cinema, ditemi se l'avete visto al cinema, se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, perché vi è piaciuto, perché non vi è piaciuto, eh? E noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!